Spazio alla satira nella sala delle colonne delle murate di Firenze. All'interno del Festival d'Europa c'è posto anche per una riflessione umoristica sui chiaroscuri nel mondo. La satira, anche quando tratta argomenti complessi, può infatti raccontare, informare, suscitare opinioni e concorrere in estrema sintesi a definire l'identità europea. L'evento che vede i protagonisti e le vignette di Luigi Porceddu è stato organizzato da Global, un sito di attualità che si propone come osservatorio online di politica internazionale. Noi veniamo da un ambiente universitario e crediamo che far luce su queste tematiche sia veramente necessario per approcciarsi alla realtà. E quindi i giovani sono il nostro ambito più diretto. Ecco perché il nome è Blog Global, perché vuole essere sia blog come spazio di conversazione, di scambio di idee, ma è anche osservatorio di politica internazionale appunto perché cerchiamo di conciliare anche questo carattere di approfondimento e analisi. La storia europea degli ultimi 70 anni è una lunga strada, ricca di deviazioni, salite, discese e ostacoli. Questa serie di vignette è una metaforica passeggiata lungo una via tutta da scoprire. La mostra copre un arco temporale che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'attuale crisi economica, in un tentativo di rappresentare in modo alternativo il processo di integrazione europea e il rapporto dell'Europa col mondo esterno. Manca una buona informazione sull'Europa. Con informazione non intendo i processi politici che vengono spiegati nei giornali o nei telegiornali. Manca, diciamo, ci sono delle lacune nel modo in cui l'Europa viene percepita, proprio perché c'è una mancanza di informazione. L'Europa viene percepita male dai cittadini proprio per questo, perché non riesce a dare un'immagine di se stessa adeguata, sia dal punto di vista delle politiche interne sia soprattutto dal punto di vista della politica internazionale, della politica estera, che comunque ha dei punti negativi ma anche molti punti positivi, considerando che l'obiettivo principale che è stato raggiunto è rendere l'Europa un continente pacifico dopo millenni di guerre, quindi è una cosa bellissima, simbolicamente molto bella. Poi vediamo dove porterà questo processo.